Ben ritrovati amici del centro meteo italiano. L'anticiclone delle Azzorra ha iniziato ad espandersi lentamente verso l'Europa occidentale, dove nei prossimi giorni il tempo tornerà a essere più stabile anche se con molte nubi sparse. Anche l'Italia verrà in parte interessata da questa vasta area di alta pressione, la quale però non arriverà a proteggere saldamente la nostra penisola. Ci sarà dunque spazio ancora per qualche pioggia, specie al sud, a caso di una piccola circolazione depressionaria sul canale di Sicilia. Vediamo allora in dettaglio le previsioni per dopodomani, giovedì 5 ottobre. Al mattino rovesci localmente intensi interesseranno la Sicilia, mentre più vigini sparse potrebbero bagnare la Liguria come il Friuli. Asciutto altrove, ma attenzione a nubi anche basse, specie sulla pianura padana e sulla Toscana. Anche al pomeriggio rovesci e piogge sparsi interesseranno ancora la Sicilia, la Liguria e il Friuli. Tempo stabile sulle altre regioni, con sole prevalente, ad eccezione di qualche nube sulle regioni settentrionali. In serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi sulla Sicilia, mentre isolate piovigini potranno bagnare ancora Liguria e Friuli. Cieli sereni o poco nuvolosi sulle altre zone, come anche in nottata, dove il tempo risulterà pressoché stabile sull'Italia, salvo locali precipitazioni al nord-est, anche a carattere nevoso ad alta quota. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature. Le minimi rimarranno generalmente stazionari o tenderanno a calare leggermente, mentre le massime sono attese in leggero aumento. Continuate a seguire tutti i prossimi aggiornamenti scaricando la nostra app gratuita Meteo, oppure sul nostro sito, dove troverete tutte le previsioni dettagliate per le vostre località. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.